ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video che è soprattutto giallo fire e quindi siamo su rocket link capito c'è prova a dirla te pepi molto interessante perfetto iniziamo a cercare la partita ah è vero sono io cipolla ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di giallo fire io sono giallo fire e questo è giallo fire su giallo fire protestiamo nel campo non ci sono i termosifoni noi resteremo fuori perché se dovemo morire freddo lo famo dei fori capito la di prima siamo in partita una competizione noi siamo ormai dei pro io sono un veterano federico è un principiante e pepi è uno che l'ha scaricato ieri però comunque cioè gli sto insegnando a giocare e sono abbastanza bravi quindi vi ricordate i miei vecchi video in cui vi dicevo che stare in porta funziona ho scoperto che in verità stare in porta è un ruolo e quindi non ero totalmente scemo funziona è bellissimo un gameplay in porta la gialluca ah è vero dammi il cambio pepi c'è ragione pure te porca vabbè vado a segnare poi torno in porta lo so però deve venire un bel video e quindi stare in porta nooo vedete questi qui sono colpi di classe ragazzi i pro li fanno tutti i giorni io infatti li faccio una volta ogni 10 anni nooo quella che ha preso ragazzi dovete sapere che la leggenda che ogni volta che il mitico fedak 47 tira qualunque cade al mondo gliela parano metti in mezzo ragazzi faccio il gol della vita il gol della vita in video non so dove in gol che gol mamma mia ragazzi fantastico gol dj pebi scusa non ti sto neanche ascoltando pebi parla tutto con me io boh però ho fatto una parola epica e gialluca malvi è zero per pebi la metterò in replay nooo l'ho licella stavo dicendo mio dio abbiamo salvato il mondo dj pebi e tu hai una partita sulla play non so dove non so quando l'abbiamo fatta però c'è una partita nostra sulla play si però nei miliardi di file di partite nostre sulla play che non verranno mai ricaricati perchè non ho voglia di stare 5 ore a cercare le clip nei video cosa? che l'ha detto? che l'ha detto? voi non ho sentito nulla voi? si 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 come avere il cromosoma in più è difficile cioè tipo metti in mezzo metti in mezzo va bene lo stesso va bene lo stesso e questo è un assist di precisione ragazzi adesso lì l'assist che ma l'ho lisciata l'ho lisciata l'ho lisciata l'avevo parata raga uscirà la clip ora in questo momento e dopo continuerò no no continuerò a parlare che io avevo parato un pallone però il gioco mi diceva che non l'avevo parata dito dito no soccato abbiamo preso cotto c'è lì no 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 raga non è possibile vengono tutti da quest'ottomini jimbo ninja no come erano guarda venga stavo parando la stavo parando e invece dovete sapere che sto per morire quindi sto facendo i video ora perchè sennò poi per anticipare capito e la prendo e la prendo e la prendo e la prendo non l'ho presa no allora allora facciamo il game tag i pokemon fai lì questo film non è un canale che porta pokemon go c'ho preso cosa ho preso voglio 200.000 like ragazzi mandate il video entry di francesco così facciamo 250 dislike in un secondo perchè se ripeto quel video poi muoro basta che metti due tette mettiamo like 2 a 2 e io non avevo calcolato chi potevamo perdere nel video bello giallo ragazzi è arrivato il momento musica epica da 3 2 1 la faccio io dovete sapere che sono un portiere ormai professionista e ho imparato anche delle tecniche speciali una è la cannavaro che prende parto dalla porta e segno ma una è anche questa se ci riesco e ragazzi perderemo il video perderemo la partita volevo dire perderemo il video mio dio magari anche no però devo farla no pepi non mi puoi permettere di fare di farla ok l'ho saltato non so che ho saltato ma ragazzi non mi riesco a mettere quindi farò un'altra tecnica in mezzo in mezzo questa qui è la mitica parata della tartaruga volante l'ho presa l'ho fatta veramente non ci credo è da 5 milioni di anni che si prova e pensa che quando ho scaricato il rocket league che trova a farlo non mi è mai venuta ragazzi non possiamo perdere la partita non la possiamo perdere ora per favore non la perdiamo per favore mancano 30 secondi e dobbiamo spazzare una per favore fate un gol per favore fate un gol non posso perdere la partita dove ho fatto la parata della tartaruga volante ragazzi è un momento storico sono giusto a fare la parata della tartaruga volante e infatti segnavo è la tartaruga volante è la tartaruga volante l'ho sempre detto mamma mia non ci posso credere non possiamo più perdere non possiamo più perdere Oops ed ecco l'ho parata path so no esattiamo tutti quanti Vai per lui ha detto l'unzifaccia lunghefaccia L'unzifaccia L'unzifaccia 13 Gennaio quando te passa e non ma ha fatto salle E' imawda è il mondialugà è il mondialugà è il dodici ma questo video c'era il tredici eeeh venerdì 13 oh cazzo è vero quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto qui da peppy fedh47 giallo fare è tutto non ci si becca con un prossimo muori grandissimo peppy io lascio spesso di dislike regà 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 no non ha salvato il video non ci posso credere però è vero la cosa che ti lascio a di dislike perché vedo tutti che appalliccio peppy non ha salvato il video io voglio morire almeno l'hai salvata no scherzo si è salvato questo qui lo metto dopo iiii ciao 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 ciao